Per la chiesa oggi è il giovedì santo per l'economia turistica all'inizio del grande esodo pasquale. Già la scorsa notte prima visaglia di un traffico di auto diretto verso la Liguria con transiti consistenti in direzione Francia. È la grande prova per la prossima stagione estiva il ponte che con il 25 aprile e il primo maggio metterà sotto pressione gli operatori turistici ma soprattutto le tante arterie di collegamento tra Piemonte, Lombardia e Riviera Ligure. Cosa accadrà con il traffico? Come sempre c'è da incrociare le dita, sperare che non si intasino i centri cittadini e che sulle autostrade tutto corra liscio. In molti casi i lavori in corso sono all'ordine del giorno. Sembra quasi che i responsabili dei cantieri abbiano atteso il grande traffico per mettere ancora una volta a dura prova la pazienza degli automobilisti. Ma intanto con le prime statistiche alla mano emerge che gli italiani si sono preparati per partire ma non sembrano assolutamente preoccupati dell'attuale situazione internazionale della crisi e della sicurezza. Pochi rinunciano alle vacanze e a lasciare la città di residenza per uno svago all'insegna dell'espensieratezza ci pensano in molti e molti sono partiti. Si parla di circa 14 milioni di persone che hanno scelto di muoversi per il giorno di Pasqua e o per tutto il weekend complice sicuramente il ponte del lunedì dell'angelo di Pasquetta. Ci sarà anche la gita fuori porta del mordi e fuggi di un giorno ma la tendenza che prevale sembra quella del facciamo un bel po' di chilometri con la consapevolezza di lunghe code al rientro. Il mare quest'anno è meta preferita ma anche la montagna fa registrare un buon numero di arrivi e di presenze. Qualcuno comincerà a fare i conti in tasca agli italiani a sottolineare che sta benedetta crisi in fondo non disturba. Ma i conti non li fanno solo le statistiche, i dati, quelli veri e preoccupanti sono relativi a chi è costretto a rimanere a casa perché ha le prese con disoccupazione e spesso perché senza tetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.